Non appartengo a questa gabbia. Sono il cucciolo della regina. Il principe Filippo mi ha regalato a sua maestà. Anche se da piccolo a volte mi comportavo male. Ero comunque il preferito della regina. Rex, ma che bel pancino. Quante smancerie. Oh, sì. Ero così famoso che Sua Maestà aveva messo la mia foto sulle tazze. Telefonini. Portachiavi. Benne. Ombrelli. Spazzolini per la pupù. Sei una vera star. Ma se sei davvero chi dici di essere, come ci sei finito qui? Ho fatto qualche piccolo errore. E sono dovuto scappare. Non abbatterti, Rex. Anche qui ci sono, come dire, parecchie distrazioni. Ciao. Rex, attento. Dai produttori di Le avventure di Sammy. Ehi, devo dirvi una cosa. Rex, un cucciolo al palazzo. Al cinema.